Oh salve, non vi avevo riconosciuto, non vi avevo visto entrare Cosa sto facendo? No niente, sto guardando il contratto che ho firmato quando ho deciso di tipare per questa squadra Sto cercando la postilla in cui si dice che io devo ogni volta, ogni partita, soffrire come un maledetto Perché non è possibile, non è possibile Andiamo con ordine, andiamo con ordine perché qua mi si fraintende se no Siamo andati a giocare una partita che era importantissima Abbiamo avuto anche due settimane per prepararla Abbiamo avuto due settimane per prepararla sta partita Anche perché con il fatto che avevamo la Lazio che andava a giocare nella terra dei cameli Nella coppa dei cameli stiamo andando a giocare a Lazio Quindi abbiamo avuto due settimane per preparare sta partita Era vitale vincere, era importantissimo vincere, era obbligatorio vincere Abbiamo vinto E abbiamo effettivamente vinto Tre punti che sono d'oro Ragazzi, d'oro D'oro E attenzione, non era per niente scontato Tre punti che non erano per niente scontati Anche perché ragazzi Va bene che il Cagliari è una neopromossa Va bene che il Cagliari è a un solo punto sopra la zona retrocessione Non vuol dire niente Il Cagliari ha ribaltato delle situazioni di svantaggio Ben peggiori di quella che gli si è presentata stasera Ben peggiori Non voglio soltanto ricordare Cagliari Frosinone per dire eh Andiamo con ordine perché andiamo con ordine Primo tempo tu lo fai impeccabile 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 Sì Ovviamente tu non puoi fare un complimento al nostro caro portiere Che lui subito fa un'uscita Alla, come si dice, alla viva parroco Che non si sa neanche dove cazzo è andato Che c'è andata di culo Che di Netti era sulla linea Era sulla linea Perché se no la partita lì era riaperta Ma a parte quello Tu hai fatto un primo tempo dove Se stavi 3 a 0 Nessuno ti diceva niente Nessuno ti poteva dire niente Perché effettivamente hai giocato un ottimo primo tempo E a parte la cappella Vani ha fatto anche degli ottimi interventi Perché do a Cesare quel che dice Cesare Io guardo entrambi i lati della medaglia Li guardo entrambi Arriva poi il secondo tempo E il Cagliari comincia a reagire Perché Ci sta che inizia a reagire Te lo aspetti anche che il Cagliari inizia a reagire, no? E tu le tue occasioni anche te le fai Con un Cagliari che però sta crescendo Con un Cagliari che però sta crescendo Succede il misfatto Si rompe Ricci Si rompe Ricci con Questa la faccio come gag, eh Per questa la faccio come gag Ricci si infortuna Esce dal campo perché deve Perché è infortunato Quarto uomo Segnala il cambio Appena segnalato il cambio L'arbitro Ha monito Ricci perché ha perso tempo nell'uscita In che senso? Signor arbitro In che senso? Ma vabbè Ma vabbè Nonostante ciò però Entra Ginetis Entra anche bene Tira anche una punizione Che non ho ancora capito Come cazzo ha fatto uscire Perché Era proprio scesa proprio bene Vuoi vedere che lo abbiamo trovato? Quello che sa tirare le punizioni Vuoi vedere che lo abbiamo trovato finalmente? Dopo anni di ricerca Che sembrava Che sembrava davvero Che stessimo cercando Non lo so Sembrava che stessimo cercando questo Per un attimo Dopo anni di ricerca Sembrava davvero Uno che sa tirare le punizioni Sembrava che stessimo cercando questo L'unico anello Sembrava che cercassimo L'unico anello Sembrava Uno che sa tirare una cazzo di punizione Vuoi vedere che finalmente Ce l'abbiamo fatta? Un minimo di Interazione col gioco Ce l'hai ancora avuta Nonostante Ricci L'uscita di Ricci per infortunio La partita diventa difficile Tu Juric Juric Tu Non vedi che Ehi Forse è il caso di mettere un difensore in più Perché Buongiorno Non ne ha più Perché Buongiorno non ne aveva più Era ovunque Ma non ne aveva più Tamese Ha fatto una gran partita E non ne aveva più Rodriguez Non ne aveva più Un minimo Mettere anche un sazonofo Per alleggerire Mentre sei sul 2-0 No No Perché tu Devi prendere il gol del 2-1 Che riapre completamente la partita E quindi E quindi di conseguenza Cagliari riapre la partita Io devo cambiare dieci paia di mutande Perché E' quello che è successo E' quello che è successo E' quello che è successo Un'ansia nel finale Un'ansia Un Cagliari che comunque Per come stava giocando Meritava qualcosina di più C'è da dirlo C'è assolutamente da dirlo Meritava qualcosina di più Per come ha interpreso il secondo tempo Ma è stata un'ansia Ragazzi E' stata un'ansia Un'ansia Io non Io davvero Sono Io sono arrivato A fine partita Stanco 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 Ragazzi Poi Non mi sorprende Non mi sorprende Tre punti che Come ho detto all'inizio del video Erano importantissimi Erano vitali da prendere Siamo a meno uno Dalla zona Europa In questo momento Siamo a meno uno Dalla zona Europa Non è poco Non è poco Siamo a meno uno Dalla zona Europa E si servirebbe Qualche rinforzo Qualche rinforzino Vero Presidente No Perché tu hai detto Che non ce n'è bisogno Perché siamo a posto così Si è visto Come siamo a posto così Lazaro Bisogna aspettare 19 partite Che ne faccia una buona Lazaro si è trovato A una certa A una certa Un'occasione d'oro Dove poteva tirare di prima E probabilmente Fare il 3 a 0 Non lo sai Scuffè era a terra Probabilmente Gli avrebbe tirato addosso Un'occasione d'oro Per fare il 3 a 0 Poteva dove tirava di prima Probabilmente era 3 a 0 No l'ha dovuta L'ha dovuta stoppare Portarsela avanti E poi guardare Scuffè E poi forse Si calcia E poi forse Si tira Non fraintendete Io sono contentissimo Di questi 3 punti Io sono contentissimo Vista anche la serata Una serata abbastanza Tesa Pesante Anche per quello Che rappresentava La prima partita La prima partita Dopo la morte di Gigi Riva Era anche pesante Per quello che rappresentava E L'abbiamo portata a casa L'abbiamo portata a casa Ed era quello che importava Ora Caro presidente Un esterno E un attaccante Che possa far rifiattare Zapata Lo possiamo avere Per favore Anche in prestito Anche in prestito Mi accontento Anche in prestito Grazie Grazie Non facciamo sembrare Ogni volta Ogni trattativa La ricerca di questo La ricerca dell'unico anello Per favore Dai